Ciao, sono Mario Donnini e ho scritto un libro sul più grande campione dello sport di tutti i tempi, Mohamed Ali. Il libro è Il buio del declino, gli ultimi anni di una leggenda, dedicato appunto all'ex Cassius Clay, a Mohamed Ali, il più grande Goat, the greatest of all time. Un pugile che diventa un'icona pop, ma nello stesso tempo anche un simbolo di un'epoca, la protesta contro la guerra del Vietnam, l'emancipazione razziale dei neri d'America, e nello stesso tempo un uomo amato, un uomo buono, un uomo importante, che nell'ultima parte della carriera, quella fino ad oggi mai indagata, mai raccontata, mai zoomata, scopre il terribile gusto della sofferenza. Dico gusto perché lui ne riuscirà a trarre qualcosa di importante e di grande, ossia l'impresa resiliente di insegnare all'uomo a non arrendersi mai. Ecco, questo è il senso di il buio del declino, il percorso faticoso, desertico, profetico di un uomo che riesce a tornare se stesso dopo essere stato un grande campione, mostrando evidentemente che possiamo davvero essere tutti Mohammed Ali. Grazie all'editore Mare Verticale e penso e spero, grazie anche a voi, se avrete la carineria di leggerlo ed apprezzarlo, per scoprire che chiunque di noi, facendo come Mohammed Ali, può diventare un grande combattente. Buona lettura. Ciao.